Ora vediamo il percorso di Jennifer Peter, sinceramente una ragazza che non conosco bene, però ha affrontato molto bene questa combinazione, anche lei ha un buon ritmo, un buon galoppo. Ecco arrivare su questa combinazione fatta molto bene, credo ci sia uno sbaglio di percorso. Ora affronterà la combinazione del laghetto. Ok, ha affrontato bene il primo elemento, molto bene il secondo elemento. Ok, è molto bene l'uscita. Molto bene il salto entrare nel laghetto e una buona direzione sull'angolo in uscita. molto bene su questo fronte stretto. Ha un buon galoppo, sta galoppando veloce, credo sia intorno alla fine del percorso. molto bene su questo tavolone. E' un po' di fretta nell'avvicinamento di questo tombarello, ma affrontato per la fine molto bene. credo sia quasi verso la fine all'ultimo salto, penultimo salto del percorso. Ok, ecco qui l'ultimo salto, affrontato molto bene, in buona andatura. Ok, ecco qui l'ultimo salto. 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 Grazie a tutti.